Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio TP termometro politico di oggi, venerdì 24 febbraio 2023. La domanda posta è a fiducia nel Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La maggioranza risponde no per nulla con il 38,8%, poi seguito da sì molta il 24,4%, poi da no poca 18,2%, poi sì abbastanza 17,8%, non so 0,8%. Se mettiamo insieme no poca e no per nulla, vediamo che c'è un 57% di italiani, quindi la maggioranza assoluta, che non avrebbero fiducia nel Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Grazie a tutti e arrivederci. A presto. Grazie.